e ciao amici benvenuti tutti in questo nuovo video io sono andrea lanciotti il vostro tecnico digitale e oggi sono qui per nuove offerte team da zone sky e via discorrendo quindi iniziamo subito andiamo a parlarne vai allora eccoci qua prima parliamo di team the zone fino ad agosto del 2023 si pagherà solo 19,90 mensili questo prezzo reale non reale secondo me dobbiamo aspettare un po di tempo perché le cose potrebbero cambiare e non si sa mai gli accordi ci sono si dice che farà anche l'accordo con netflix e via discorrente staremmo a vedere mi è piaciuto l'altra volta con il video che ho fatto alcuni di voi hanno detto le vostre è andato bene ha funzionato bene chi ha funzionato male sono d'accordo in altre parti ha funzionato bene di qua di là io vorrei sapere pure se lo avete visto in hd in full hd o via discorrendo o addirittura il 4k che diciamo che per il momento le partite in 4k le vedi solo con sky quindi andiamo avanti e vi dico che ci sarà anche tutte le partite team e infiniti sia della serie a e della serie b e anche l'europa league avremo avrete avrete più di 104 partite poi si passerà da 29 90 da agosto 2023 partirà il primo settembre e poi vedremo quello che succederà il prossimo anno nel frattempo eccoci qua nel frattempo mi è arrivata anche un'offerta di sky cioè non riguarda in questo caso lo sport perché in pratica è arrivata questa offerta se tu vuoi fare sky tv più cinema che andrai a pagare 24 euro 90 mensile per 18 mesi anziché di 39 avrete in omaggio anche un monopattino quindi questa offerta mi scade fino al 26 se sei interessato a questa offerta mi raccomando chiamami subito facciamo il contratto ti verrà potete fare sia il contratto tramite parabola sia il contratto tramite tramite internet avrete tanti vantaggi e in più avrete in omaggio un monopattino elettrico vi arriverà direttamente tutto a casa quindi a me non chiedete niente ci sarà addirittura tutto con il contratto quindi era questo in pratica che vi volevo dire nel frattempo che siete indecisi tra da zona se volete fare da zona fatelo ma secondo me molti di voi hanno già da zona e quindi già lo vedete e già lo avete in abbonamento e dopo vedete chi dice che bloccherà anche le utenze quindi sarà anche molto peggio nel frattempo mi è arrivata questa bella notizia cioè questa offerta di sky a 24 90 sky tv più sky cinema e in più vi regala il monopattino in omaggio un monopattino del valore di 500 euro che potrete andare in giro per la vostra cittadina di qua e di là grazie a sky grazie all'abbonamento di sky si proprio così quindi io vi dico affrettatevi se volete nuove informazioni nel frattempo io non vi sto a dire qui le offerte team da zone la tv netflix prime non ci si capisce ancora niente quando ci sarà tutto più chiaro farò un breve video dedicato farò questo video dedicato e spiegherò al meglio per il momento questa offerta eccolo qui è da zone con team e infiniti tutto incluso tutto raggruppato quindi potete vedere alcune partite della champions league le potete vedere anche con prime video mentre tutte quelle altre le vedete con sky però stiamo a vedere stiamo ad aspettare e ci vediamo in prossimi video ciao a tutti da andrà lanciato il vostro tecnico digitale mi raccomando lascia un like e scrivi del messaggio questo è un video abbastanza corto l'ho fatto per più che altro sì dirvi dell'offerta di sky che secondo me è in questo periodo è molto conveniente poi la situazione calcio ne parliamo verso l'inizio del campionato quando le cose si saranno stabilizzate e poi non lo so le voci girano però le voci che girano non ci sono ancora i fatti quindi andiamo a vedere e ci vediamo ai prossimi video ciao